Il mondo intorno a te, parla, ascoltalo, fallo con gli appariti acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni, 379 16 65 428. È stato definito dagli addetti ai lavori non a torto uno dei più intensi e significativi spettacoli agonistici paralimpici tricolore e una due giorni da ricordare, che ha saputo regalare anche al nostro territorio grandi emozioni. Lo scorso fine settimana a Palermo, presso lo Stadio delle Palme Vito Schifani, si è disputato il campionato italiano di atletica leggera promozionale FISDIRE colminato con l'assegnazione dei titoli nazionali e dei trofei messi in paglio dagli sponsor della manifestazione, il primo dei quali, quello offerto dal giornale di Sicilia, è stato assegnato alla polisportiva Disabili Valcamonica. La società presieduta da Gigliola Frassa si è presentata all'evento con 12 atleti accompagnati da alcuni genitori e volontari. Per i ragazzi alla prima esperienza in pista si è trattata di un'ottima occasione per mettersi in gioco e confrontarsi con altri concorrenti provenienti dall'intero stivale. Ancora una volta il lavoro svolto dal Sodalizio Camuno è stato premiato. Quattro i titoli italiani portati a casa grazie a Nicole Bonazzi, oro nella marcia da 400 metri, ad Emanuele Tapini, oro nel salto in lungo da fermo, ed Elisa Carrara, medaglia d'oro nei 50 metri e a sua volta nel salto in lungo da fermo. Tre gli argenti messi in bacheca grazie alla staffetta 4x50 mista composta da Giulia Fontana, Emanuele Tapini, Elisa Carrara e Marco Vidilini, alla staffetta 4x50 maschile con Alex Spezzoni, Mattia Baccanelli e ancora Emanuele Tapini e Marco Vidilini e a Miriam Carrara seconda nei 400 metri di marcia. A chiudere il bottino una lista di cinque bronzi per la staffetta 4x50 femminile composta da Noemi Magnolini, Giulia Fontana, Chiara Vielmi ed Elisa Carrara per i 50 metri corsi da Emanuele Tapini per l'80 di Mattia Baccanelli per il getto della pala da un chilo di Miriam Carrara e per il bronzo nel vortex di Federica Giacomelli risultati che hanno consentito alla polisportiva Disabili di classificarsi al quarto posto assoluto su 26 società presenti. Il team Camuno, ora è atteso dai campionati italiani di atletica leggera Fisdir riservati agli agonisti in programma a Molfetta dal 4 al 5 giugno in quel frangente saranno 14 gli atleti presenti.